Ciao e benvenuto su Elenco Prodotti. Nel video di oggi daremo un'occhiata alla top 5 migliori notebook portatili da 13 pollici. Dopo approfondite ricerche e test, abbiamo realizzato questa lista in base al prezzo, alle prestazioni e alle diverse situazioni in cui verranno utilizzati. Se vuoi conoscere la disponibilità e il prezzo aggiornato di questi prodotti, clicca sui link nella descrizione qui sotto. Bando alle ciance, cominciamo con la lista. Numero 5 della nostra lista c'è Samsung Galaxy. Il Galaxy Book Flex ha un design flessibile che ti permette di usarlo come un laptop o un tablet. Con la S-Pen, puoi controllare il tuo Galaxy Book Flex a distanza e presentare le tue presentazioni. Samsung Galaxy Book è un dispositivo innovativo progettato per aiutarti a fare di più in movimento. Le sue dimensioni compatte lo rendono facile da portare con te ovunque, mentre la sua lunga durata della batteria significa che hai abbastanza succo per guardare video e lavorare su documenti per ore. Il Galaxy Book è dotato di un display Super AMOLED da 12 pollici con volume di colore del 100% e modalità outdoor a 600, così potrai goderti i tuoi contenuti preferiti anche alla luce del sole. Inoltre, con un processore Intel Core i5 e 8 GB di RAM, il Galaxy Book ha la potenza per gestire tutte le tue attività con facilità. Per finire, il Galaxy Book include una tastiera e un trackpad a grandezza naturale, rendendolo un vero sostituto del laptop. E quando sei pronto a rilassarti, la S-Pen integrata nel Galaxy Book ti permette di prendere rapidamente appunti o abbozzare idee. Quarto posto abbiamo Apple PC portatile. Ecco il nuovo MacBook Air. Con una batteria che dura tutto il giorno, più potenza e una memoria ultraveloce, è il Mac più evoluto di sempre. E dato che è compatibile con i vecchi cavi di ricarica USB-C, puoi usarlo ovunque. Inoltre, il suo design intuitivo lo rende facile da usare fin dall'inizio. Così con un MacBook Air puoi fare tutto quello che vuoi. Prendi il tuo oggi. Ecco il nuovo MacBook Air. Con una batteria che dura tutto il giorno, più potenza e una memoria ultraveloce, è il Mac più evoluto di sempre. E dato che è compatibile con i vecchi cavi di ricarica USB-C, puoi usarlo ovunque. E il suo design intuitivo lo rende facile da usare fin da subito. Con un MacBook Air puoi fare tutto quello che vuoi. Prendi il tuo oggi. Il MacBook Air è disponibile in due dimensioni, 13 pollici e 15 pollici. Così puoi scegliere quello che fa per te. E poiché è leggero e portatile, puoi portarlo ovunque. Il nuovo MacBook Air ha una batteria che dura tutto il giorno. Più potenza e una memoria ultraveloce. È il Mac più evoluto di sempre. Numero 3. Abbiamo Huawei MateBook. Il portatile Huawei MateBook Dezo Pro è un Ultrabook touchscreen con uno schermo da 13,9 pollici e un rapporto schermo-corpo del 91%. Ha un corpo in metallo elegante con una finitura sabbiata tagliata a diamante. È spesso solo 14,6 mm e pesa 1,33 kg. Viene fornito con un processore Intel Core i7 di decima generazione. Il MateBook Dezo Pro 2020 dispone anche di una webcam scomparsa, che consente un'esperienza visiva ininterrotta e più coinvolgente. La webcam può essere utilizzata per videochiamate e conferenze, così come per scattare foto e video. Il portatile è dotato anche di un lettore di impronte digitali, che permette un login rapido e sicuro. Il Huawei MateBook Dezo Pro è un portatile potente e versatile che è perfetto per studenti, professionisti e chiunque abbia bisogno di un computer affidabile e portatile. Numero 2. Abbiamo HP Spectrix 360. Questo notebook convertibile HP Spectrix 360 è perfetto per i professionisti impegnati che hanno bisogno di un dispositivo potente che può tenere il passo con il loro stile di vita frenetico. Il processore Intel Core i5-7200U e 8 GB di memoria assicura che sarete in grado di gestire anche le attività più faticose, mentre il 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD fornisce un sacco di spazio di archiviazione per i vostri file e documenti. E con il suo display multitouch a bordi stretti e 4 altoparlanti, questo notebook è perfetto anche per l'intrattenimento. Con un peso di poco più di 3 libre, il notebook convertibile HP Spectrix 360 è progettato per la portabilità. La batteria di lunga durata assicura che non dovrete preoccuparvi di trovare una presa di corrente, mentre la porta USB Type-C rende facile la connessione a dispositivi esterni. E con il suo lettore di impronte digitali e la tastiera retroilluminata, questo notebook è perfetto per gli utenti attenti alla sicurezza. Per finire, il numero 1 della nostra lista è Apple MacBook Pro. Il nuovo MacBook Pro è il notebook Mac più potente di sempre. È dotato di una CPU a 8 core con prestazioni fino a 2,8 volte più veloci, un motore neurale a 16 core e 8 GB di memoria unificata che aumenta le prestazioni fino a 2,8 volte più velocemente di prima. Il MacBook Pro 15 ha la Touch Bar e la tecnologia Touch ID, un display più luminoso con ampio supporto per i colori, la tecnologia TrueTone per un'esperienza visiva più naturale attraverso diverse impostazioni di luce, e Thunderbolt 3 per velocità di trasferimento dati fino a 40 GB al secondo, due volte più veloce dell'USB 3. E tutto questo viene fornito in un MacBook Pro più sottile e leggero che pesa solo 4 libre. Il nuovo MacBook Pro è alimentato da un processore Intel Core i 9 a 8 core con velocità Turbo Boost fino a 5.0 GHz, che lo rende il notebook Mac più veloce di sempre. Il MacBook Pro 15 dispone anche di un motore neurale a 16 core in grado di gestire fino a 11 trilioni di operazioni al secondo. Insieme, questi miglioramenti delle prestazioni rendono il nuovo MacBook Pro fino a 2,8 volte più veloce della generazione precedente. Verrai tutti i link di questi prodotti nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato questo video. Se ti è piaciuto premi il pulsante Mi piace, e se non conosci il canale, iscriviti e premi l'icona della campana per ricevere gli aggiornamenti futuri.